Siamo in partenza, ciao, siamo in partenza verso l'est, prima tappa a Venezia, aeroporto di Venezia, dove ci imbarcheremo, vedremo dove, ciao, saluta anche tu Giovanna? Ciao, siamo a Venezia, tra poco, che paura, tra un po' ci imbarchiamo, ciao raga, è il gate 64, no, noi andiamo al 63, ma questo dietro di noi è il 64, non vedo tanto bene, eh sì, comunque c'è anche il 63, dai, fidatevi, ciao, ciao. Siamo, dove siamo? Siamo nell'aeroporto di Noa, sono le 6 del mattino e stiamo per andare a prendere una coincidenza per Yangon, ero Giovanna, come hai dormito? Ho dormito bene, un po' per terra, un po' per terra, hai preso una malatonina, ma hai fatto bene per la malatonina, un po' viene sempre a prendere, bene ragazzi, adesso noi vi salutiamo e andiamo a prendere questa coincidenza. Il viaggio è andato molto bene, molto bene, speriamo bene, speriamo bene anche questo, ciao, di nuovo, ciao. Ciao, ciao. Ed eccoci alla fin fine a Yangon, che è il terrasso del nostro hotel e qui finisce le prime due giornate di viaggio. Ciao. Ciao.